Ritardo nei pagamenti del mese di dicembre 2023 da parte della Dasti. Per questo motivo CGL Messina Funzione Pubblica, Fit Cisle Messina, Will Trasporti Messina e FIA del Messina hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale operativo nel cantiere di Barcellona Pozzo di Gotto. Si tratta di circa 80 lavoratori e l'assenzione dai prolungamenti orari degli straordinari salvo sussista un'emergenza igienico-sanitaria. Per quel che concerne la città dell'Ongaro, il rappresentante sindacale aziendale della CGL Giuseppe Aspa ha comunicato che pur tra lo stato di agitazione e con le disposizioni che sono state programmate già ieri non si sono voluti creare ulteriori disagi per la festa del patrono San Sebastiano che ricade nella giornata di domani. Lo stato di agitazione trova le ragioni a seguito dell'incontro del 15 gennaio scorso nel quale la Dasti ha comunicato alle organizzazioni sindacali che a causa di difficoltà di liquidità causate dai ritardati pagamenti da parte di alcuni comuni si è determinato il mancato pagamento degli stipendi e che verosimilmente potranno essere erogati tra il 26 e il 29 gennaio prossimi. Per quel che riguarda ancora l'avvertenza Barcellona Pozzo di Gotto dove la Dasti ha rinnovato da poco l'appalto, lunedì prossimo 22 gennaio si terrà un'assemblea di due ore nel cantiere in località Contura per discutere sulle eventuali iniziative da adottare per il mancato pagamento del mese di dicembre. Lo stato di agitazione come hanno comunicato la Cigelle Sicilia Funzione Pubblica si riferisce anche a tutti gli altri comuni in cui la Dasti svolge il servizio di igiene ambientale e cioè oltre che a Barcellona Pozzo di Gotto anche a Davola, Borgetto, Caltanissetta, Gravina di Catania, Mister Bianco, Motta Sant'Anastasia, Pachino, Partinico, Paternò, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, Santa Flavia, Santa Maria di Licodia, Termini Merese e Valverde. Come si vince dalla stessa nota inviata ieri dalla Cigelle Sicilia Funzione Pubblica firmata dal coordinatore regionale Alfio Leonardi e dal segretario regionale Giovanni Camuca l'avvertenza è stata portata a conoscenza oltre che ai sindaci di questi comuni anche ai presidenti delle SRR, Palermo Area Metropolitana, Palermo Provincia Est, Catania Metropolitana, Messina Area Metropolitana, Siracusa e Caltanissetta Provincia Nord e infine anche all'assessorato regionale dell'energia, Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti.